Dal 14 al 16 ottobre Teramo sarà il cuore della ricerca scientifica che accomuna la salute degli uomini a quella di tutti gli altri esseri viventi e alla Terra stessa. Giorni di dibattito e riconoscimenti. Cinque i premi previsti, destinati a uno scienziato italiano, a uno scienziato non italiano, a un divulgatore, a una storia e a uno studente. E One Health Award, il grande evento scientifico divulgativo promosso dall'IZS di Teramo, che porterà nel capoluogo aprutino scienziati, divulgatori, esponenti delle istituzioni e protagonisti della cultura, con l'obiettivo di porre al centro del dibattito pubblico l'improrogabile rivoluzione One Health, One Earth, una sola salute, un solo pianeta. Soddisfatto il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e il Molise, Nicola D'Alterio, per essere riuscito a focalizzare l'attenzione sulla salute unica. Si tratta infatti di un tema di straordinaria attualità, che sarà affrontato a Teramo da esperti di alto livello, capaci di trattare l'argomento utilizzando linguaggi in grado di parlare a tutti, dagli scienziati di salute pubblica agli studenti delle scuole del territorio. Tanti gli ospiti illustri che hanno risposto all'invito dell'IZS di Teramo per attuare la rivoluzione One Health, One Earth, sarà infatti necessario lavorare in rete e coinvolgere tutti i livelli sociali, dal comune cittadino al ricercatore, dagli studenti a chi governa. L'obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio cambio di paradigma filosofico, prima ancora che politico e di pratica quotidiana.